Nella mattina d'odierna, in Carini, i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito una finanza applicativa della custodia rodale in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di due soggetti responsabili di minaccia aggravata e porto e detenzione illegittima di arma comune da spara. Il provvedimento scadulisce da un'attività di indagine condotta dai militari della compagnia di Carini i quali hanno individuato gli responsabili delle sparatorie avvenute in Carini l'11 giugno ed il 5 agosto scorso nell'ambito delle quali i due soggetti si erano visentevolmente esplosi dei corpi d'arma da fuoco in pieno centro per dei presunti debiti di carburante maturati nel corso del tempo. Il lavoro dei militari ha permesso di salire all'effettiva responsabilità degli indagati seppur in assenza dell'effettivo rinvenimento delle armi grazie all'escussione dei vari testimoni nel corso dell'attività investigativa. Sono in corso ulteriori accertamenti di intesa dell'attività iniziale.